Ciao a tutti! Quante volte vi è capitato di voler realizzare dei biscotti di una forma particolare? Spesso però o non si ha la forma adatta in casa o non si trova in commercio. In questo video vi mostrerò come realizzare facilmente delle formine per biscotti personalizzate. Per realizzare una formina ci servirà una vaschetta di alluminio, un normalissimo cartoncino e delle forbici. Iniziamo tagliando una striscia di alluminio della lunghezza e della larghezza desiderata. Dopodiché tagliamo una strisciolina di cartoncino larga alla metà della striscia di alluminio. Ecco qua! Una volta tagliata la strisciolina la rivestiamo con l'alluminio. Questo servirà a dare più stabilità alla formina. Fatto questo, aiutandoci con le mani diamo la forma desiderata. Ed ecco qua pronta la formina. Una volta terminato di modellare l'alluminio, basterà chiuderlo con una spillatrice. E adesso che ho realizzato la formina proprio come la volevo io, vi mostro come utilizzarla in modo creativo. Innanzitutto ho preparato della pasta frolla al cioccolato. La ricetta la trovate sulla mia pagina Facebook, il link è qui sotto. Dopodiché utilizzeremo dei kiwi e la formina che abbiamo preparato. Ed ecco qui il risultato. Con una fettina di kiwi e un po' di immaginazione, questo biscottino è diventato una tartaruga. Io spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a cliccare mi piace per condividere il video con i vostri amici. Vi ricordo che per non perdere i prossimi video, basta iscriversi al mio canale. Adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!